Oggi la Juve Stabile ha dominato in lungo e in largo, dal primo fino all'ultimo. Abbiamo fatto tutto il gol, nato il rete. Mi dispiace perché è stata fatta una partita veramente bella. Dopo una gran partita fatta sabato abbiamo fatto ancora un'altra grande partita. Purtroppo non sono arrivati tre punti. No, ha fatto, possiamo dire, tutto la Juve Stabile bene o male? Ma se sei di parte, sì. Vedo anche l'accento se sei di parte. Sì, sì, assolutamente. Perfetto. Sì, nel primo tempo abbiamo sofferto perché ho detto, anzi, due o tre miei giocatori non erano in partita. E contro questa Juve Stabile soffri. Nel secondo tempo, nei venti minuti abbiamo giocato a calcio, per come il Francavilla sa fare, e forse non abbiamo creduto di poter andare in vantaggio. Abbiamo lasciato un'altra volta campo alla Juve Stabile, che è giocatore importante. Abbiamo saputo soffrire, ma sapevamo che comunque questo è un campo dove tutte vengono a soffrire. Dobbiamo dare seguito ai risultati. Non è una partita vinta che ti risolve problemi, perché di problemi basta vedere gli ultimi venti minuti, ce l'abbiamo abbastanza anche noi. Dobbiamo lavorare e dobbiamo migliorare su tante cose. Meno male si sta facendo qualche risultato nel frattempo. L'analisi potrebbe essere questa, di una partita contro una squadra costruita per vincere il campionato, dove siamo riusciti a fare una partita sotto tutti i punti di vista tattico, fisico. Non dimentichiamo che loro avevano riposato. Ha dominato la partita su un campo difficile, una squadra che chiaramente era animata dalla voglia di vincere la partita, perché è da tanto che non vinceva, quindi noi ce l'aspettavamo delle difficoltà.